Musica Ricominciamo da lui e ricominciamo da te Don Pasquale. Ben trovato e buona domenica. Ben trovato a te, buona domenica e buona domenica a tutti. Diciamo che ricominciamo da noi. Ricominciamo da noi, sì, sempre. Dobbiamo riprenderci tutto quello che è nostro a partire dalle relazioni. Ieri è stato beatificato Carlo Acutis, giovanissimo, morto all'età di 15 anni per una leucemia fulminante. Noi vogliamo trattarlo come eroe, anche se forse il termine è sbagliato per quanto riguarda i beati e i santi. È un eroe, certamente. Un eroe che ha vissuto in maniera eroica, in maniera alta, le virtù cristiane. Quando uno viene inserito nel processo di beatificazione, di canonizzazione, si valuta la sua vita. Gli aspetti della sua personalità, anche la sua vita, la sua storia anche di peccato e di fragilità. Si valuta anche la cosiddetta posizio sulle virtù, sull'eroicità delle virtù. Cioè ci si chiede se questa persona che si vuole beatificare o che si vuole canonizzare abbia vissuto al massimo grado le virtù cristiane. Cioè i doni, i talenti che ci sono stati fatti dal Signore. La fede, la speranza, la carità, piuttosto che la temperanza, la pazienza. Ci si chiede, ci si fa questa domanda di fronte a questa storia, che è una storia umana, è una storia nostra. I santi sono eroi, ma sono eroi perché sono sinonimi di modelli, non perché sono dei personaggi inarrivabili. Nessun santo è mai così. Se leggiamo le biografie di tanti personaggi che ci hanno preceduto nella fede, scopriamo che anche loro avevano un bel bagaglio di difetti. Questo un po' ci consola, ci rincuora, perché ci fa capire che, ecco, come anche ha sottolineato il Vaticano II nella Lumen Gentium, tutti quanti siamo incamminati verso la santità. La santità non è più un percorso preferenziale per i preti, per le suore o per i religiosi, ma è una strada accessibile a tutti, è un tratturo, è una via difficoltosa, a volte sterrata, bisogna far difficoltà. Richiede da parte nostra anche una certa ascesi per abbandonare la parte bassa della nostra umanità e per arrivare a quello che il Vangelo ci chiede, che è sempre le beatitudini. Le beatitudini sono per tutti e questo ragazzo ce l'ha dimostrato. Ed ecco perché poi deve essere trattato anche come esempio, in questo caso per tanti giovani. E' esempio per tutti, tant'è che Papa Francesco lo ha ditato come un testimone di santità nella Christus Vivita. A lui Papa Francesco dedica ben tre paragrafi, il 104, il 105 e il 106, parla di questo giovane come uno, come un ragazzo spontaneo, che ha vissuto appieno la sua tenera età, è morto, come hai detto tu, a soli 15 anni, però l'ha vissuto in una maniera originale. Lui diceva che tutti si nasce originali. Il guaio è che quando si arriva alla fine della vita ci si rende conto di aver vissuto come delle fotocopie. Noi siamo chiamati a conservare nella nostra esistenza, nei nostri giorni, quel tocco di originalità che ci viene proprio da Dio. Noi diamo alla storia un'impronta che è solo nostra. Occupiamo un posto che solo noi occupiamo e che nessuno può farlo. Nessuno può sostituirci. Noi siamo insostituibili in questo senso, davanti agli occhi di Dio. Possiamo dare un contributo alla crescita del mondo, alla crescita degli altri, con quello che siamo. Lui per esempio ha utilizzato gli strumenti della comunicazione digitale. Papa Francesco dice che ha usato, ha creato una via di uscita molto molto particolare dalla solitudine che spesso i social creano. Perché dobbiamo dire che, eccolo, dobbiamo riconoscere, sono delle grandi potenzialità i mezzi di comunicazione, i nuovi mezzi di comunicazione, però nascondono anche tante insidie, tantissimi tranelli. Possono costringerci un po' più nella solitudine, nell'abbandono, nell'accartocciarci su noi stessi. Invece Carlo ha utilizzato questi mezzi per aprirsi al mondo, per creare una vera comunicazione che non schiaccia mai l'altro, ma lo valorizza e lo promuove nella sua umanità. Mezzi che hanno il risvolto, comunque, ci sono tanti giovani che cadono in trappole, abbiamo sentito parlare di questo nuovo sistema di attirare l'attenzione di tanti ragazzi più fragili, più deboli, quindi internet è sì, usato alla maniera di Carlo Acutis, positivo, ma può essere anche negativo per tanti. Quando c'è la mancanza, l'assenza, si sente l'assenza dei genitori, la mancanza di responsabilità, il fatto di lasciarli soli a se stessi può essere negativo. Può essere pericoloso, l'abbiamo ascoltato pochi giorni fa in un episodio di cronaca nel Napoletano, c'è stato un ragazzo di 11 anni che si è suicidato, perché preso dall'orda di questo giochetto infernale che circolava su internet... Ma poi i giovani conoscono più questi casi negativi che quelli positivi. Invece internet, come dice la parola stessa, è stato creato proprio per la relazione, per la comunicazione, per lo scambio positivo. Internet è un grande canale di evangelizzazione. Carlo Acutis ce l'ha insegnato con la sua mostra sui miracoli eucaristici che ancora adesso circola in rete, no? Quindi quello è un bellissimo esempio dello sfruttamento positivo di una risorsa che è per tutti e deve restare per tutti e deve essere usata secondo schemi e criteri umanizzanti. Carlo Acutis, davvero eroe, ha preso l'autostrada del cielo, così come la definiva lui, l'eucaristia, ma tanti giovani sono lontani. C'è un periodo dell'età, tu sicuramente lo sai bene, che si dice, si dà l'addio alla chiesa, alla parrocchia, ai sacramenti, ma avviene proprio con un sacramento, quello della crescita, il sacramento dell'addio. Sì, Papa Francesco lo chiamava proprio così, il sacramento dell'arrivederci, o addirittura in una maniera più tragica, il sacramento dell'addio, quando si saluta tutti, si saluta la comunità cristiana, è come se i giovani volessero recuperare una dimensione di libertà che è una libertà forse illusoria che cercano, perché forse ancora non riescono a capire che la vera libertà è anche essere custoditi da una famiglia, da una comunità che vuole bene, che accompagna i passi verso un senso di libertà che non è fare quello che si vuole, che non è capriccio. Paolo, nel capitolo quinto della lettera ai Galati, ce lo insegna in maniera mirabile, la vera libertà non è fare quello che si vuole, utilizzare questo pretesto per vivere secondo la carne, ma la vera libertà si sviluppa nel momento in cui si impegna tutto se stessi nella pratica della carità, cioè mettendosi a servizio gli uni degli altri. Questo la Chiesa insegna, questo la famiglia insegna. A proposito di Paolo, stavi parlando di San Paolo ai Galati, noi ne abbiamo un altro di Paolo per la rete, infatti lo peschiamo da lì, il suo caffè. Quest'oggi ci parla di eroi, però è l'altra faccia della medaglia, quegli eroi che scadono in un certo senso, anche se hanno segnato poi la storia. Ascoltiamo lui. Quanto durano gli eroi? Qual è il tempo in cui un eroe scade? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Ho partecipato qualche tempo fa a un convegno a Lignano Sabbia d'Oro e tra i vari ospiti che si sono alternati sul palco c'è stato anche Antonio Cabrini, uno dei grandi calciatori italiani, uno degli eroi del 1982, dei campioni del mondo del 1982. E lui ha dato una data precisa, un anno e mezzo. Lui ha raccontato che per un anno e mezzo in qualunque ristorante andasse non poteva pagare perché gli offrivano il pranzo. Il titolare diceva, ma sei io che devo darti dei soldi, ci hai fatto grandi nel mondo, figuriamoci se tu paghi a me la cena. E così ha viaggiato, più o meno nello stesso modo, per gratitudine, perché era un eroe. Poi le cose sono andate scemando, fino ad arrivare a qualche anno dopo quando era smesso di giocare a calcio. Qual è la durata di un eroe? Quanto dura un eroe? Io credo che ci sia un bellissimo esempio in letteratura, al di là del fatto di quello che ci racconta Cabrini, potrebbero raccontarci gli eroi anche del Mondiale 2006. E poi c'è da chiedersene che continuiamo a chiamarli così. Nel Signore degli Anelli, gli eroi veri sono Frodo e Bilbo. Anzi, per la verità, Frodo e Sam che insieme riescono a sconfiggere il nemico. D'accordo, tutti gli altri contano ovviamente. Ma percorrendo la strada terrificante dentro Mordor e riuscendo a gettare l'anello dentro il fuoco, con l'aiuto di Gollum. Ma questo è un altro discorso. E vengono celebrati, vengono onorati. C'era quella bellissima scena in cui tutti i principi dell'Occidente, tutti uomini ed elfi, si inchinano davanti ai portatori dell'anello. Questi piccoli hobbit che non sono proprio gli ultimi tra gli abitanti della terra di mezzo e che pure sembrano non contare nulla. Ecco, lì hanno raggiunto il vertice. Sono gli eroi, il massimo. Tutti li onorano. Eppure poco dopo spariranno anche loro. Torneranno al loro paese, dovranno combattere una battaglia e nessuno se li filerà nella contea. Dicono, ma chi sei? Ma tu? Ma che cosa vuoi aver fatto? Ma che cosa vuoi aver contato? L'eroe scompare immediatamente. Perché alla fine il concetto è questo. Non è che aver compiuto un gesto eroico ti fa guadagnare una qualità d'animo, una qualità di intelligenza, una qualità di competenza tale da poter vantare questo titolo per la vita. Perché siamo uomini. Abbiamo segnato un'attacca, abbiamo vinto una coppa, abbiamo preso un premio, abbiamo fatto qualcosa che merita di essere ricordato, ma poi basta. Torniamo a essere uomini come tutti gli altri. Non abbiamo un'eredità che deriva dall'atto di eroismo che ci permette di essere superiore agli altri o vantare chissà quali privilegi o quali competenze che magari alla fine non ci competa. Per cui gli eroi sono belli per quello che hanno fatto, ma poi devono tornare nelle loro dimore. Così come fa Sam che torna a casa alla fine del suo viaggio. E forse così saranno ancora più capaci di diventare eroi una seconda volta, se capita l'occasione. Buongiorno e buon caffè. Grazie Paolo. In effetti tutti gli eroi, se vogliamo, tornano a casa. Gli eroi santi tornano a casa. E gli eroi, quelli che abbiamo conosciuto tutti, anche se tu sei giovanissimo, Cabrini ai tempi dell'82, insomma, eri ancora... Non c'ero sulla terra. Eri suonamente di Dio. Quindi, insomma, si ritorna a casa e comunque si lascia sempre un segno. Nel caso degli eroi di cui ha parlato Paolo, l'eroicità è limitata ad un periodo della loro vita. Poi è come se, è vero, rientrassero nelle loro case, quasi consegnati un po' all'oblio della storia. Invece, per quanto riguarda i santi, l'eroicità coincide con tutta la loro vita. Noi ci ricordiamo anche adesso di San Francesco, vissuto 800 anni fa, di un San Tommaso d'Aquino, vissuto altrettanto, di un San Domenico. Noi ci ricordiamo di personaggi vissuti anche migliaia di anni fa, dei primi martiri. Noi li celebriamo durante le nostre liturgie. è quella la vera eroicità, una eroicità che si estende lungo tutto l'arco della vita. E che non scade. E che non scade. Ci fermiamo qualche istante, poi ritroviamo Don Pasquale.